Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Dove credi di trovarti? Nel labirinto. Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler. Un profiler? Prova a non entrare nella sua testa. È stata ritrovata. Ormai non c'è più bisogno di te. Ieri notte eri nella paluta. Hai visto la ragazza? Ti sei fermata e chiamata i soccorsi. La ragazza non era sola. Giusto? Ti chiami Samantha Andretti. Sam, sei stata rapita 15 anni fa. E tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista. Conigli. Forse è giunto il momento di farle conoscere Banni. Vogliamo i tuoi ricordi, ne abbiamo bisogno ora. E devo arrivarci prima di lui. Perché? La storia non finisce così, giusto? La caccia non è là fuori, ma dentro la tua mente. Te hungry. Soccolo! The